Va in scena l'Ollindo Galli di Tivoli, il settimo turno della serie di Girone F, protagonista è l'Aquila 1927 e la Tivoli. Abruzzesi intenti a riprendere il cammino dopo il pari interno con l'atletico Ascoli, che ha naturalmente lasciato parecchia mare in bocca alla truppa di Epifani. Dall'altra parte Pascucci ritrova il calore di casa dopo la sconfitta in terra tiatina contro la battistrada neroverde di Mauro Chianese. Agli ordini del signor Scarati di Termoli Epifani torna all'antico, soprattutto nella scelta degli uomini con Del Pinto che ritrova una maglia da titolare insieme a Uali e Raffaelli con San Rizzo alto a sinistra. Dopo appena tre minuti l'Aquila va vicino al gol, da corner svetta Capitano Brunetti ma sulla linea è bravo a salvare Savi. Al settimo verticalizzazione per Pellegrini, tempestiva l'uscita di Raffaelli. Pericolosissima l'Aquila attorno al tredicesimo, San Rizzo scappa a sinistra e dopo il controllo vede Galesio in area. La difesa respinge, poi Del Pinto cerca ma non trova lo specchio col mancino. Al diciannovesimo la Tivoli passa, cross dalla destra con Raffaelli che respinge ma sulla sagoma di un compagno. La palla finisce sui piedi di Cruz che senza problemi sblocca la gara, Tivoli 1, l'Aquila 0. L'Aquila prova a rispondere da piazzato di Angiulli al minuto 26 ma il mancino si spegne tra le braccia di un attento vento. L'Aquila insiste e dopo un'azione prolungata Galesio fa da sponda per Angiulli ma il 6 rosso-blu contrastato manca lo specchio di poco. Passano 4 minuti e la Tivoli sfiora il raddoppio, sulla sinistra va via Fatati dopo l'1-2, il suo tiro cross mette a dura prova le coronarie di Epifani col pallone che attraversa tutto lo specchio della porta aquilana. Al trentasettesimo Galesio viene messo giù al limite da Jürgens che si becca il giallo, Banegas calcia la punizione ma Vento sul suo palo la mette in corner. I rosso-blu non demordono e con lo stesso Banegas si procurano il rigore del possibile pari. La sterzata in area è perentoria così come l'indicazione del dischetto. Da parte di Scarati dagli 11 metri il Pocio non tradisce i suoi 1-1 al trentanovesimo. Ad avvio ripresa effettivi che non cambiano con Epifani e Pascucci evidentemente contenti dei rispettivi schieramenti. Tivoli brava a trovare il vantaggio iniziale e rosso-blu abruzzesi che invece si sono fatti preferire nei minuti restanti trovando il meritato pari con la quinta marcatura di Banegas. Al sesto, malgrado l'orario, Tavoni si addormenta al cospetto di Pellegrini, Raffaelli si prende mezzo voto in più stoppando la percussione del 2004 di casa. Tavoni avrà una cena da pagare. Al minuto 13 Galesio si improvvisa assistman da fallo laterale. L'argentino si guadagna la rimessa mettendoci il corpo e con la coda dell'occhio vede l'inserimento di Sarrizzu. Il 19 entra in area e col mancino vede lo spiraglio sul secondo palo. Vento si supera e con la manona soffoca l'esultanza aquilana. Alla mezz'ora Epifani cambia due terzi di centrocampo togliendo Uali e Del Pinto per Battistoni e Mantini. Baggio Terracino va a prendersi la fascia sinistra offensiva al posto di un Sarrizzo ancora pensieroso dopo la conclusione parata da Vento al tredicesimo della ripresa. Trentacinquesimo scambio Banegas-Galesio-Banegas da piazzato. Vento osserva in sicurezza col pallone al lato. Sul primo palo al quarantunesimo Angiulli alza la testa e pesca Galesio in area di rigore. Stavolta il bomber argentino gira male da ottima posizione tra la disperazione dei rosso-blu che pregustavano un esito diverso vista le caratteristiche del nove di Cordoba. Al novantesimo l'Aquila subisce la beffa, Brunetti commette fallo dal limite e scarati fischia. Santarelli col destro disegna una parabola imprendibile e la Tivoli porta a casa i tre punti facendo esplodere di gioia l'Olindo Galli. Santarelli col destro disegna una parabola imprendibile e la Tivoli porta a casa i tre punti facendo esplodere di gioia l'Olindo Galli.